con questo video si parte con una nuova rubrica qui sul canale è in realtà da qualche tempo che avevo intenzione di farla e negli ultimi giorni ho deciso che era giunto il momento di farla adesso vi spiegherò è un qualcosa che voglio fare prima di tutto come una mia sfida personale e secondo perché penso possa anche essere interessante per tutta la community di trader che segue qui ma che in generale segue il trading e che vuole approfondire il tema di fare trading anche con dei capitali piccolini allora voi come sapete io ormai sono un trader che ha qualche anno di esperienza e quindi diciamo che sono portato a poter fare trading sia con un capitale più piccolino sia con un capitale medio ma anche con un capitale grande adesso vi spiegherò bene tutto la cosa che però inizialmente voglio dirvi è che tutta questa mia sfida e questa rubrica che porterò avanti con non una cadenza settimanale una o due volte al mese vi riporterò quello che sta avvenendo in questo mio esperimento in questa mia sfida diciamo con me stesso e più che altro perché perché se fare trading in generale ha bisogno di un grandissimo senso di responsabilità e una grandissima disciplina fare trading con capitali importanti lo necessita in maniera estremamente ancora di più nel senso che quando poi si lavora con grossi capitali ovviamente si ha anche più quel senso di responsabilità rispetto a quei soldi quindi ecco fare trading con capitali piccolini adesso vi dirò anche quanto e tutto quanto in realtà ha bisogno della stessa modalità della stessa disciplina e dello stesso senso di responsabilità ed è per questo che voglio mostrarvi appunto quello che ho in mente di fare e che partirà subito in questi giorni ok anche perché siamo all'inizio del mese di luglio 2024 così andremo a vedere allora tutto parte da qui vi faccio vedere una cosa questa qui è la pagina del famoso it cup il campionato no di qualche anno fa che si faceva ma penso lo facciano ancora poi ho partecipato solo quell'anno io qui presi lo screenshot della fine del campionato ultimo aggiornamento vedete 8 maggio 2015 alle 9.53 praticamente se non lo sapete io nel 2015 mi iscrissi al campionato it cup dove c'erano due broker direct e bink io scelsi diretta come si vede e mi piazzai quarto in questa competizione dove si poteva inserire un minimo di 2000 euro e il massimo si poteva fare quello che si voleva io ho messo 3000 in realtà probabilmente se avessi messo 2000 avrei rischiato gli stessi soldi devo dire la verità e quindi avrei fatto una performance migliore magari mi magari mi potevo anche classificare terzo chissà però vabbè al di là di questo mi sono classificato quarto ma la cosa al di là della classifica è che comunque che cosa cosa feci io mi iscrissi il campionato durava circa due mesi io mi iscrissi quasi alla fine del primo mese quindi in realtà io sono stato in gara un mese e una settimana probabilmente un mese e dieci giorni adesso non ricordo esattamente che sono passati nove anni e come vedete questi 3000 euro poi alla fine del mese un mese un po' più abbondante sono diventati 418944 ovviamente nel momento in cui si fa un campionato io personalmente non è che ho spinto tantissimo potevo spingere di più però si tende ad essere un po' più avvezzi al rischio rispetto a magari tradare molti più soldi in una situazione di trading di tutti i giorni privatamente e quindi in una situazione più normale dove magari una persona vuole incassare dal trading non per forza per vivere ma comunque per per avere una seconda entrata una terza entrata o anche per vivere però nel momento in cui si fa un trading di quello che voglio dire privato no si fa magari delle scelte di rischio un pelino diverse di un campionato sicuramente in molti che fanno un campionato vanno a spingere molto io qui spinsi ma neanche più di tanto devo dire se non mi ricordo male prendevo dei rischi di circa 100 120 euro a trade quindi stiamo parlando comunque insomma di un qualcosa di abbastanza lieve no perché nel campionato spesso si va si va molto più si va molto più pesanti comunque detto questo da qui parte tutto perché parte tutto da qui perché così tra l'altro stavo sistemando delle cartelle vecchie del computer in un hard disk esterno e tra le varie fotografie tra le cose mi viene fuori questa immagine questo ancora forse fine maggio quindi adesso siamo al 6 di luglio del 2024 io sto registrando in questo momento è sabato voi vedrete questo video tra qualche giorno e ho detto ma sai che una sfida nuova no magari aprire un altro conto piccolino eh non per fare gare campionati su cui poi io partecipai quella volta e poi non partecipai mai più e poi in mente non credo che parteciperò più a dei campionati perché tanto sono un po' fine a se stessi ma per quanto mi riguarda non non mi interessa mi ero un po' provato anche io quella volta più che altro no e ehm ed è stato interessante come come esperimento come sfida con me stesso eh e allora così eh mi è venuta voglia e proprio in questi ultimi giorni ho richiesto ai g l'apertura di quindi al mio broker l'apertura di un ulteriore sottoconto io già ne ho alcuni di un ulteriore sottoconto su cui avrei eh bonificato diciamo tremila euro quindi non cinquemila non duemila non diecimila non gli stessi soldi che utilizzai nel momento in cui feci questo campionato come vedete tremila euro nove anni fa e e voglio riprovare non perché voglio fare in un mese mille quello che è euro come qua ma perché voglio testarmi magari non andrà bene vedremo comunque cercherò di essere di trattare quei soldi assolutamente come se fossero trecentomila e non tremila quindi come faccio con gli altri conti qui farò anche però un'operatività che dovrà essere adattata adesso qui vi faccio vedere il conto che ho aperto quindi proprio in maniera totalmente trasparente questo è il conto che ho titolato sky is the limit eh con tremila euro quindi proprio che ho che ho bonificato questo ovviamente un conto reale io quello che vedete da me è sempre stato dal 2010 ad oggi sempre soldi reali eh quindi no non ci sono dubbi non ci sono inganni perdite profitti comunque sono sempre stati soldi reali e e quindi questo sarà molto interessante perché perché per me dovrò comportarmi non in maniera perfettamente identica a quello che faccio su conti più importanti quindi ho già stilato un piano eh da un punto di vista proprio di gestione operativa di di un po' di cose eh leggermente differente ovviamente mh so già un po' cosa fare come fare un po' quello che che feci tanti anni fa diciamo in maniera un po' evoluta ma comunque lo andrò a rivedere qui e quindi un po' alla volta vedremo se eh sarò in grado ripeto sfida con me stesso magari eh ci sarà insomma da così da seguire questa cosa vedremo se questi tremila eh un po' alla volta inizieranno a diventare tremila e due tremila e quattro tremila e cinque via dicendo no? Quindi vedremo vedremo sarà una rubrica comunque che voglio fare ripeto non mensilmente sarà un qualcosa che arriverà eh col tempo quindi magari ripeto una due volte al mese non farò un appuntamento settimanale che a mio avviso in questo caso non avrebbe molto senso anche perché non è che andrò a dirvi esattamente tutte le operazioni che ho fatto insomma magari sì qualcuna la la vedremo vi farò vedere un po' lo statement proprio aprirò vi farò vedere tutto quello che riguarda questo conto e vedremo se nel tempo sarò in grado di portare questi pochissimi euro e quindi la sfida è anche quella di mostrare che se un trader ha un metodo eh una certa mentalità nell'approcciare il mercato e eh riesce a gestirsi bene quindi essere responsabile disciplinato ehm con un buon money management eh se riesce non a vivere di trading ovviamente con tremila euro sarebbe ridicolo ma neanche con cinque dieci o quindici mila voglio dire ma se anche già solo con tre mila con eh competenze esperienze metodo quindi e capacità insomma di rimanere focalizzati e gestire bene il tutto si possa riuscire comunque a fare dei guadagni e un po' alla volta magari questo conto farlo diventare più grande perché l'idea è quella lì vedremo vedremo come andrà quindi in questo caso ho anche aperto ovviamente una pro real time eccola qui che ve la faccio vedere eh di questo conto quindi una real time apposita non è questa una ehm non è una pro real time eh non è quell'altra che uso anche insomma che uso spesso anche per il platinum questa qui è proprio una pro real time eh esclusiva per questo conto quindi è incollata a questo conto eh ho inserito alcuni mercati che non sono perfettamente degli stessi spesso che vado a tradare anche nella mia operatività anche su conti più grossi dove faccio diciamo il più delle mie cose eh ho messo qualche mercato un po' differente perché avrò bisogno di un po' di volatilità avrò bisogno di alcune cose che ovviamente eh mi permettono di fare determinate scelte diciamo a livello operativo e quindi bene e ovviamente saranno tutti i mini lotti ovviamente gli stop e i rischi saranno eh piccolini quindi adesso sto un po' valutando però i rischi almeno inizialmente eh saranno veramente bassi penso intorno ai novanta cento euro trade però poi vedremo un po' ovviamente rispetto ai tremila euro non sono bassissimi però rispetto insomma a rischio in euro sarà questo circa la tacca quindi sarò leggermente più basso di quello che feci nel campionato eh avrò una gestione che vabbè adesso non voglio trattarla però insomma vi farò vedere un po' le cose che andrò a fare senza andare troppo nel dettaglio a livello operativo eh qualcosina vi mostrerò però per farvi capire se veramente questa cosa per chi ha un po' di competenza per chi ha un po' di un bel po' di esperienza e sa quello che fa eh comunque si possa riuscire a fare bene e siccome ne sono abbastanza certo però la sfida è con me stesso e quindi l'accetto volentieri e sarà divertente seguire questa eh questa avventura diciamo poi eh siamo qui quindi commentate pure ma farà molto piacere seguire quello che dite ehm scrivete quello che volete insomma a me fa molto piacere poi ognuno insomma la pensa come come vuole io farò questa questa sfida ripeto ho altre cose che volevo dirvi mi sembra di avervi detto tutto quindi penso che vi ho spiegato i motivi e che cosa andrò a fare e tutto qui quindi probabilmente adesso ci vedremo più non lo so verso fine luglio insomma credo siamo a inizio luglio quindi magari verso fine luglio ci rivedremo vedremo un po' come che cosa sta succedendo se invece di 3000 sono 2005 se invece di 3000 sono 3500 3200 se sono ancora 3000 vedremo vedremo che cosa succede vedremo cosa succede con molta calma comunque eh tranquillità va bene allora a questo punto io basta direi che vi ho così vi ho spiegato cosa voglio fare lasciate un mi piace se questa rubrica è di vostro gradimento se non siete iscritti al canale ovviamente iscrivetevi e noi come sempre ci vediamo al prossimo video e alle prossime live grazie a tutti buon trading simple